Presente anche a Bagnaia, il Cavaliarduccio Bartalucci, anzitutto benvenuto. Cosa significa essere qui a Bagnaia e cos'è Bagnaia per questo sport? Bagnaia intanto mi fa venire alla mente tantissime edizioni nelle quali ho partecipato, quindi è un piacere ritornare qua. Grazie alla famiglia di Andrea Riff e della sua figlia Sara, perché sono una testimonianza importante della passione che lega la gente del nostro ambiente a questo sport. È un'occasione per comunque vedere anche dei cavalieri che magari durante l'anno ho avuto meno occasione di visionare e poi c'è questa speranza che Bagnaia, che è comunque rimasto un posto tradizionale, un appuntamento tradizionale nei prossimi anni e magari torni ad ospitare un evento tipo un campionato italiano piuttosto che un CSI anche di cabotaggio superiore, perché credo che il posto sia unico e meriti tutte le attenzioni di chi fa questo sport. Tra l'altro presenti qui a Bagnaia ci sono anche tre elementi della squadra che vedremo tra pochissime a Barcellona, Bicocchi, Paine e Grossato. Sì, questi sono dei cavalieri che hanno fatto una stagione importante, si sono alternati insieme agli altri nella divisione 1, l'abbiamo conquistata questa volta con anticipo e soprattutto con grande merito perché alla fine siamo stati con lo stesso punteggio della Svizzera al primo posto, ma sono cavalieri che meritano questa opportunità, credo che la loro stagione sia stata finora importante e significativa, è una grande occasione che abbiamo pensando appunto a un'Olimpiade, quella di Tokyo, che potrebbe secondo me con le potenzialità che ha l'Italia, qualora centrassimo la qualifica, potrebbe essere comunque una prospettiva da giocarsi a darmi pari con le altre.